Musica Ho scelto l'ITC Palma perché mi piace la fotografia Perché voglio andare all'università con delle buone competenze Perché mi piace la comunicazione Perché rispecchia le mie aspettative Perché voglio lavorare all'estero e avere la possibilità di viaggiare Perché ci sono ottime strutture sportive Perché mi piace la grafica multimediale Perché mi piace studiare il diritto Musica Perché mi piace Musica E fare il ragioniere da grande Musica Per avere un futuro migliore Musica 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 Sono io 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 L'istituto tecnico, economico e tecnologico statale Luigi Palma opera dal 1961 a Corigliano Calabro, nella moderna e attrezzata sede di Via Torrelunga. L'istituto è centro risorse della fascia ionica cosentina, presidio per la formazione sulle nuove tecnologie, sede di progetti cofinanziati dalla Comunità Europea ed in possesso della certificazione di qualità ISO 9001-2008. La didattica diversificata e fortemente partecipativa rende vive ed interessanti le lezioni attraverso discussioni guidate, analisi di case reali, utilizzo della LIM digitale presente in ogni classe, esercitazioni di laboratorio, percorsi progettuali e stage formativi che negli anni hanno portato i nostri alunni a Parigi, Dublino, Strasburgo, Bruxelles, Barcellona, Nizza, Cannes, Londra, dando loro la possibilità di familiarizzare con strutture e meccanismi socioculturali di altri paesi e potenziare la conoscenza delle lingue straniere. Primi nel territorio, l'istituto utilizza per ogni classe il registro elettronico, che permette di gestire le normali attività di docenti in forma multimediale, dando alle famiglie la possibilità di conoscere, tramite internet ed in tempo reale, le attività giornaliere svolte dalla classe, voti, assenze e ritardi del proprio figlio. Il nostro istituto offre ai suoi alunni conseguimento del diploma in amministrazione, finanza e marketing, conseguimento del diploma in grafica e comunicazione, conseguimento del diploma in turismo, corsi serali per adulti, sirio, indirizzo ESABAC, che permette agli studenti di conseguire, con un solo esame di Stato, due diplomi, italiano e francese, offrendo così un percorso biculturale e bilingue, che dà l'opportunità di avere libero accesso alle università italiane e francesi, con prospettive di lavoro in entrambe le nazioni. La nostra struttura comprende una biblioteca, l'IM digitale per ogni classe, tre laboratori di informatica e videoconferenza, un laboratorio di grafica, due laboratori linguistici e multimediali dotati di unità mobili, un laboratorio di economia aziendale, un laboratorio di impresa formativa simulata, un laboratorio di italiano e storia, un laboratorio di matematica, un laboratorio per il progetto ESABAC, un auditorium con il palco, sala docente multimediale, una palestra provvista di tribune e spogliatoi, campi di calcetto e pallavolo, un impianto polisportivo, le cui fasi di realizzazione partiranno nei primi mesi del 2015. Chi sarà e cosa saprà fare lo studente che completerà il corso di studi all'Istituto Palma? Il diplomato in amministrazione, finanza e marketing avrà ampie e sistematiche conoscenze dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. Nello specifico sarà in grado di ridigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali, svolgere attività di marketing, collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali, utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. Il diplomato in turismo avrà competenze nel comparto delle imprese del settore turistico. Nello specifico sarà in grado di gestire servizi e prodotti turistici, promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale, intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. Il diplomato in grafica avrà competenze specifiche nel campo della comunicazione e nell'uso delle tecnologie per produrla, progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi supporti, realizzare i supporti cartacei necessari dalle diverse forme di comunicazione, realizzare prodotti multimediali, progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. I nostri studenti avranno la possibilità di lavorare nelle aziende pubbliche e private, in tutti quei contesti economico-sociali, come il settore del credito, degli scambi commerciali, delle assicurazioni e dei trasporti, che esigono una formazione professionale di tipo tecnico-commerciale. Potranno esercitare la libera professione come consulenti o liquidatori di imprese, come commercialisti o revisori dei conti. Ulteriori opportunità occupazionali saranno nel settore dell'editoria, della stampa, della pubblicità e della produzione multimediale e, oltre a tutto questo, anche la possibilità di accedere a qualsiasi facoltà universitaria. Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L'audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. Ti aspettiamo all'Open Day, venerdì 23 gennaio, giovedì 5 febbraio e mercoledì 11 febbraio dalle ore 16 alle ore 19. Grazie a tutti.